Luis, dove sei? Scusami, ho fatto un casino. Vieni a salvarmi, Principe Azzurro. Come no? Verrò a cavallo. Andiamo. In sala da ballo dopo il cortile. Vieni a danzare con me. Oh, Luis, se me lo dici così... Beh, non possiamo abbandonarlo. Yes. Se me lo dici così, caro Luis, vengo subito, guarda. Se mica una spada qua attaccata nasce, eccola la spada. Che è? Ah. Il mio è l'abito da eroe, il suo è l'abito da romantico. Tra l'altro, mi sa tanto che andrò... Non posso, infatti. Non posso andare a cambiare costume, perché dovevo cambiarlo prima. E' fatto la pipì sul divano, no? Perché secondo me qua dietro c'è un qualcosa di nascostolo? Vero, vero. Che violenza. Eh, però... Eh, volevo mettere ancora il vestito da romantico di Leon, che è quello più bello. Però... Adesso ho cominciato il... il trabiccolo e quindi non posso. E vado dall'altra parte. Praticamente il vestito da romantico di Leon è come il suo... Eh, scusi. Ecco... Alzati! È come il suo, ma... Ah, su, Leon. Ah, ma io sono... Io vengo. Io sono venuto, signorina. Io, signorina, sono venuto. Quindi andiamo di qua. Ma l'avevo mica uccisa la cornacchia? Dove sta? Eh, la madonna... Qua l'hanno modificato. Perché se non mi sbaglio il labirinto nell'originale era proprio un'altra sezione. Che potevi andare solo se potevi... Se riuscivi a sbloccarla. Invece qua l'hanno implementata proprio nel gioco. Almeno, dopo, magari... C'è anche un altro pezzo. Cagnolino! Madonna, è scappato. Cazzo, ho visto quella lacqua da mascherina e ti sei cagato addosso. Basta che non mi fate prendere i colpi. Allora, qua siamo in un cul-de-sac. Qua credo che ci sia chiuso. Fatti. Cosa ho sbagliato strada? Ah, qua no. Ok, c'è un tesoro alla fine. Andiamo, signorina! Devo andare alle cappelle. Porco, madosco! Il prossimo. Mi sono leggermente cagato addosso. Come un tavolo con nulla. Ah, fal dracca! E arrivano altri. Insieme a Dead Space, il remake più bello che ci sia mai stato questo, davvero. Anche più bello di Dead Space. Diciamo che è l'unico lavoro brutto che hanno fatto, anche perché l'hanno dato in pasto a un altro studio. E' quello del 3. Mi piace tanto la situazione. Ecco. Per i cani sempre il guinzaglio. No! Porca miseria, l'ho chiamato! Non era mia intenzione. No! No, che mi muore! Bravo, cucciolino, che mi stai qui ad aspettare. Perché se non lo sapete, Resident Evil 2, il remake, insieme al terzo, sono stati fatti nello stesso momento. Ovviamente da due studi diversi. Bello! Ovviamente da due studi diversi. E se con i due l'hanno fatto perfetto... C'è chi dice anche migliore dell'originale, diciamo che... Non era il caso del 3. Eh, purtroppo hanno tagliato tantissimo nel 3. Tanto. Tantissimi contenuti li hanno tagliati. Bella! Anche perché, come ho detto, l'ha fatto un altro studio. Per l'amore del cielo. Se preso come gioco, non è neanche brutto, però... Sapendo magari che... Anche il 2 aveva delle cose... Molti enigmi di qua di là e non ce n'è stato manco uno nel 3. Remake. Esatto, esatto. Cioè, tutti gli enigmi li hanno tagliati. Al massimo ne hanno lasciato uno, giusto per dire... Guarda, c'è l'enigma anche qua. Però... Penso di Schiffhausen! E mo? Ho finito e col tazzo. Ho finito e col cazzo. I coltelli. Ah, buono. Scusate se sono compulsivo-aggressivo quando gioco a sto gioco che continuo a schiazzare sto figa de... Sto figa di mappa, però... Ero così anche quando lo giocavo ai tempi. Allora, mo... Dobbiamo andare qua. Uh, c'è una marionetta! Dov'è? Eccolo! Una mira. Allora. È mo? Eh, come faccio? Oddio. No, ma devo salire da un'altra parte. Aspetta, fammi tornare all'inizio. Vamos a bailar! E come cacchio faccio ad andare? Aspetta. Eh, ma qua è bloccato? O che si può andare lei? Ah, ok. Sbaglio sempre strada. Di qua. Mamma mia, riflessi felini. Questo stronzo non era morto. Non ne ho preso uno. L'altro è scappato. È mo? Porca miseria, mi son cagato adosso, no! No! Bello! Ah, che t'ho visto, eh. E qua? Voilà! Ora possiamo uscire da questo labirinto. No! Leon, arrivano! Ashley, corri! Eh, ma corri! Ma io? Ah, qua. Genghi! Genghi, benghi! c'è chiude c'è chiude chiude non c'è chiude nononononono vabbè 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 Cori, cori, cori! Ho preso tutto! Bello sto posto! Corridorio centrale Mamma mia, vero, vero, vero Anche se se non mi sbaglio Ma vaffanculo In certi post, in certi punti nell'originale si metteva in mezzo alle balle E anche qui ha un fatto che tipo Ah, è chiusa Ogni tanto proprio è in mezzo ai coglioni Quindi quello non l'han cambiato No, no, no Quei medaglioni blu Fastidiosi sono orrendi E voglio vederli sparire Distruggi tutti i medaglioni blu Chicca I medaglioni blu Col fatto che c'è una mappa del tesoro speciale Nella Collectors Li posso vedere nella mappa A 1, 2, 3, 4 e 5 Perfetto Adesso posso fare delle modifiche davvero incredibili E canteranno ancora più fuori Canteranno? Ma che stai a dire? Uh, c'è il poligono Eh, ma io non ce l'ho l'affare da ficco qua dentro, eh Se non credo neanche che sia tanto grosso Allora Eh, qua Ne ficchiamo una verde qua E una verde qua E due rosse Va che opera d'arte Questo possiamo vendere Questo possiamo vendere Ah, questa l'ho Mi sa che le posso vendere Benvenuto Ho delle rarità da offrirti Straniero Ma io le tengo Allora Può essere solo venduta Può essere solo venduta Possono essere solo vendute Big vendimento Qua proprio alla grandissima Ripariamo il chiello Ripariamo il giubbottolo Potenziamo tutto quello che ci può potenziare Un esperto come te dovrebbe notare subito la differenza Si vediamo alla prossima Allora, ci facciamo quei due medaglioni qua Ah, che uno sta qui Eccolo Joan E l'altro Non mi ricordo male È acqua sopra Guarda, c'è una statua lassù Dove sta? Ah, eccolo Che belli i medaglioni Eh, però Se devo essere sincero Secondo me È ancora più bello in inglese Il mercante Anche se non mi sbaglio Hanno cambiato la voce anche a quello Puttana Eva I ratti hanno infestato un'area nel castello E ora rosicchiano tutti i libri preziosi Progresso Corridoio centrale biblioteca Elimina tutti i ratti Ok Questo è il corridoio centrale Ok E dove sta il biblioteco Ah, qua io sento cricco cracco Madonna, ma quanto è dispersivo Sto' zona Perché l'originale Era solo in inglese Infatti dopo questa Me la giocherò Sia questo Che Dead Space Voglio fare la Le run ad estremo Tipo E le metto in origine Con lingua originale Ai 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 Preferivo l'altra No vabbè Facciamo questa Siamo qua Eh Ho cominciato tardi Fabio Troppo oggi Ho dovuto cominciare tardi Tra l'altro Adesso devo fare Devo andare subito Direttamente là sopra Per forza Per forza Ma la bomba Siamo circondati Venga E non si faccia prendere Ecco E mi faccio prendere io Porca puttana Quanta A montare Di center Sudo takedown La madonna La madonna Non lei Non lei Porca puttana Se adesso mi prendono Esli Guarda Tino Una madonna E poi Mori mortazzi Tu Con il tuo albero Genialodico Pezzo Merda No questo è quello normale Ok Che adesso possiamo fare Lezione all'altra parte Ma che cazzo Te spingi E' stronzo Aaaaaa Pezzo di merda Io signora Fatemi spostare Tatticamente un po' Sinistra A U A E I O U Faccia qualcosa Madonna Quanti minchia siete Andiamo signorina Te l'ammazzo perché mi stai Cazzo Mamma mia Acqua Damn 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 Fa culo Adesso Cazzo De scudo Dio Voila Intanto non so neanche cosa stia facendo qua Cosa mi serva E El Cabron Guardalo che mi corre dietro Oh Madonna Ma quanti siete Ma quanti siete Aia No 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 E La Madonna ma Cioè Ci sono i saldi E c'è gente che diceva che i nemizi erano più forti nell'originale I miei gran coglioni Erano più forti nell'originale Porca puttana Ma madonna Fortuna che questa è una zona dove c'è un salvataggio abbastanza In zona Ma leggermente Mister Erlios Leggermente Dubiterei Di questa Affermazione Au Aesli Levamose da lì Goioni va L'ho fatto qua Il cazzo matto Si Possiamo Andarsene Ho finito tutto Ah la Il Triceratopo qua Come cazzo si chiama Le Il rinoceronte qua Non mi viene il termine tecnico Insomma Allora Andiamo qua sopra Non l'Hydra Quello ha tre teste Cerbero Alla prossima Elios Non si poteva mica vestirsi con l'armatura? Grazie mille della compagnia E buon fine settimana Se non Se vedemos Mi ricordo Non mi ricordo Se ero io O era Esli Che andava In una In un'armatura Che sta zona Che scavalca? No no Mo potrebbi scavalcare Mo potrebbi scavalcare Eh ma qua Succedono i casini Adesso Aspetta Eh ma quanti Che siete Piazzicco Madonna Guarda Guarda non si muove più Il fuoco delle lanterne le blocca Grandissimo Aspetta Aspetta Tira Ashley Quanti sono due? No Sto bloccato Porco satana Dovete venire qua sotto Ovvio Io credo che fosse Soltanto Uno Due Pichando cazzo Ce l'ha questo Dietro Oh ma sono finite Le lanterne Tana Sono finite No 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 Rad da Corri Oh Bello Sì Madonna! Buonanotte, cavalieri! Arrivo! Io ero, eh! Sicuro di star bene? Ti sei bruciato! Ah, grazie dell'aiuto! Sei stata brava! Ashley! Ok! Guadi! La prenda forte la coda! Damn, 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 damn! Era sopra? What? Ah no, qua! Cazzo, è cosa da pinhead? Ah no, ce n'è uno sopra! Eh, vabbè, ci andiamo dopo! E perché il trick è un po' balla... Ok, andiamo a prendere la roba là, che sennò... Non va bene, eh! Non va bene, non va bene! Me so, fottio, ho anche un'erba verde! Perfetto, dov'è l'ultima... L'ultima clava? Lì? Dispositivo cubico? What? Un cubo con i bordi d'ottorno sull'altro sull'altro sull'altro... Ok... Eh, ma... Qua? Ah no, qua si apre la porta! Ok! Allora sarà questa qui! No, ma ci sono uscite! Ah no, un'altra! Bello! Ah, una sala da pranzo! Mangiare qui? No, grazie! E perché no? Beh, l'ultima! Ah, so, ok! Allora possiamo prendere! Un topo! Lei non ha il panino! Va qua! No, io dove l'ho seduto? Do cazzo l'ho seduto io? A questo punto è questo! The best! Ci siamo riusciti! The best! Un forastero! Eh, a vesti cazzi! Oh, che bello perché non ho fatto prima questa! Voilà! Allora! Leon! Le scale! Stai indietro! Muerte! Corri! Vai! Vai! Sì! Oh, mamma, che è sto aiuto a Leon? Ah, li può prendere anche Ella? E l'hai permesso? Ci sarà un touch per non far luce? Ma i coglioni. Non spaventarmi così. È un orologio. Gli antichi avi rispondono a loro prescelta. Se cerchi la benedizione del Signore, abbi coraggio affronto all'oscurità. Sì. Ma quanto godo Che cos'è stato? Non vi avvicinate! Aiuto! Madonna, quando ti siete brutti? Grazie al cielo Adesso, basta, armature Madonna, ma non so che cazzo Ho saltato totalmente un pezzo, mi so Allora Mamma mia, per fortuna che ce l'ho fatta passare qua in mezzo Mazza, buzzo del culo, ce l'ho fatta, zitti Ce l'ho fatta, buzzo del culo Potevo chiudere Voi sti cazzi anche del Fatto apposta lì Ma cosa... Questa qui è tutta quarte a parte, eh? Ah ma ok, ma si vede proprio Cosa, vaffanculo Non è questa Ma è questa Perfetto No, 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 spegnetevi Ancora Non ce la faccio più Emo? Aiuto! No, non c'ho il... Ok, fate i bravi E nuovetevi Via! Ma quindi io dovevo andare, dovevo andare per forza di qua Ok Ok Ah, aiuto! Uga Via! È la Fucco Ah, 11.4 Ah vabbè, vasti cazzi Ce l'ho fatta E che due coglioni però Posso salvare Liam! Ashley Stai bene? Sì Un attimo Ti tiro fuori Tieni Prova questa Riesci a scendere? Ti prendo io Sì Forse sì Ashley! Di Grazie.